Caos, clacson a tutto volume, attese lunghissime. Porta Elisa, crocevia dell'inferno da quando è stato aperto il cantiere per i sottoservizi prima del via dei lavori per la costruzione della nuova rotatoria. La concomitanza con il mercato settimanale anche questa mattina ha provocato una vera e propria ressa con i veicoli incolonnati all'ingresso della città e in uscita dalla porta. Inevitabilmente i disagi hanno avuto ripercussione anche sui viali della circonvallazione. Stavolta però, a dispetto di altre, una pattuglia della Polizia Municipale è intervenuta sul posto per regolare il traffico, altrimenti lasciato al caso. Infatti le code estenuanti hanno finito per snervare gli automobilisti che dunque si sono affidati al fai-da-te invece che rispettare i tempi dell'impianto semaforico della porta di accesso in città. Il risultato è stato ben presto il caos più totale, una situazione che rischia di ripetersi ancora in futuro, soprattutto nei giorni di mercoledì e sabato in occasione del mercato di Via dei Bacchettoni. Grazie. Grazie. Grazie.